La cucina Masterchef Volley Potentino Qui abbiamo il signor Zocca che sta coccorrando una cagnolina molto carina E come ti sembrano questi ragazzi che si stanno cimentando nella cucina? Siamo molto bene, uno ci riesce l'altro più o meno Ma vabbè, se l'hai fatto così, non so che cosa dirvi Non facciamo noi No, no, non facciamo noi Io vedo Simone Marco Vecchio che è molto impegnato e molto attento in questa Questa preparazione Vedi, il signor Cucciarelli lo vedo un po' più Un po' più Un po' più calmo, più Eh, perché lo facciamo un calmo